Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Ci sono storie in cui il lato comico non c'è, non si può trovare, non esiste. Sono storie di soprafazione, di violenza, storie di morti senza senso. Storie che vanno semplicemente raccontate, anche perché quando si prendono delle posizioni rispetto alla storia, agli avvenimenti bisogna guardare in faccia queste storie. Allora Milano dista da Teheran 3.700 chilometri, sono 5 ore e 8 minuti di volo. Ecco queste 5 ore, che sono la durata di una mattinata a scuola, sono un pomeriggio al mare, in queste 5 ore c'è la differenza tra la vita e la morte di una ragazza, di tante ragazze, che hanno la sola colpa di essere nati in un posto dove la legge non è degli uomini, ma di un Dio tradotto dagli uomini. Un Dio tradotto, e tradurre implica tradire, questo Dio tradotto e tradito impone alle persone delle leggi che vanno contro l'umanità, impone a delle ragazze a 5 ore da qui di coprirsi, di non essere quel che vogliono essere, per essere qualcosa che sembra la parola di Dio, ma non lo è. è la parola degli uomini e così Massamini, dopo tante, dopo troppe ragazze, è morta ed è morta anche Armità Geravan, è morta lei. Guardiamola bene, guardiamolo bene questo viso, questi occhi, perché sono gli occhi di una nuova generazione di ragazzi che dice no, che dice no al Dio degli uomini, che dice no alle sue regole, ai suoi comandamenti, alla sua legge. Armità ha detto no a un velo che le coprisse i capelli, ha detto no al fatto che chiunque potesse decidere per lei e per questo è stata picchiata dalla polizia morale. Attenzione, probabilmente Armità è stata picchiata da un agente donna della polizia morale. Ora, soltanto questa parola, polizia morale, racconta l'orrore. Lo Stato che decide sulla moralità e che in nome di una moralità bigotta e repressiva decide sulla vita e sulla morte dei ragazzi e delle ragazze, decide sulla libertà degli artisti, decide quel che è morale e quel che è immorale. Ma c'è qualcosa di più immorale di decidere sulla morale degli altri? C'è qualcosa di più immorale di picchiare una ragazzina, tante ragazzine, di terrorizzare gli intellettuali? C'è qualcosa di più immorale di decidere che gli omosessuali meritino la morte? C'è qualcosa di più immorale di condannare qualcosa in pubblico con sentenze di morte, ma poi in privato praticare di nascosto la stessa cosa, che fa parte da sempre dell'animo umano? 5 ore 8 minuti. Se vostro figlio prendesse un aereo in questo tempo sarebbe lì, in quel paese che adesso sta aiutando non i palestinesi, che di aiuto avrebbero un disperato bisogno, ma i terroristi che per primi ammazzano il loro popolo, lo usano come arma di difesa contro chi li attacca. E chi li attacca ha fatto e sta facendo delle barbarie, chi attacca ha commesso e sta commettendo anche dei crimini e questi crimini non possono trovare nessuna giustificazione. Non ci sono morti buoni e morti cattivi, ma esiste una verità oggettiva e questa verità è che c'è un posto a 5 ore da qui dove una ragazza che è identica alle nostre ragazze viene uccisa perché dice di no. C'è un posto dove le migliori menti vengono annientate, represse, obbligate a fuggire. C'è un paese meraviglioso come l'Iran, con una cultura meravigliosa che viene violentato da un Dio tradito. Mentre noi qui decidiamo per chi tenere, decidiamo quali siano i diritti che hanno più valore, a volte anche quelli che ci portano più consenso, più applausi. Mentre noi decidiamo chi ha ragione e chi ha torto, Armità è morta. Ed è vero, lei è una delle tante ragazze e ragazzi che stanno morendo ora per mano della politica, degli interessi, degli uomini, di Dio. È una delle tante. Sono così tante e con così tanti assassini che piangerne una sembra quasi una perdita di tempo, un inutile esercizio di retorica. Quindi vi lasciamo 10 secondi con lei, 10 secondi solo. Guardatela negli occhi, pensate a quelle 5 ore che vi dividono dai suoi assassini e dopo decidete le priorità, dopo decidete il mondo che vorreste lasciare a chi amate. Grazie.